buongiorno ci sono tutti belli brutti un bacione da michelone un bacione sì ho sbagliato papà perino sbagliato 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 e oggi è sabato e ho sbagliato ieri era venerdì è capita capita ragazzi per me d'estate tutti i giorni sono uguali tutti i giorni sono uguali tanto sono sempre 12 ore di fila in cucina quindi per me tutti i giorni sono uguali posso sbagliare anch'io posso sbagliare ho dato ieri il buon sabato invece era venerdì capita va bene oggi video oggi il buon sabato come la va ragazzi come la va bacione tutti i bagli ebrotti sempre forza juventus mi raccomando ragazzi verrà veramente c'è un caldo io io non lo so ma il grado di mio di sopportazione peggiora ogni anno o qui ogni anno fa sempre più caldo veramente perché è una roba veramente allucinante allucinante già la mattina mi ricordo che almeno la mattina si respirava ma adesso neanche la mattina non ho veramente veramente è agghiaggiante la situazione è agghiaggiante allora parlare di di non c'è tanto da parlare ragazzi io vi cerco di tenervi compagnia un pochino ma adesso è tutto fermo sono anche tutti incazzati e le visualizzazioni scendono e la gente non guarda youtube calcio mercato fermo partite non ci sono gli europei fanno cagare perché tutti quanti degli europei e degli europei noi gliene frega un cazzo nessuno avete notato che non è che parlato via della seconda semifinale lì che è nata l'inghilterra lì mi è dispiaciuto un po' per l'olanda io ti favo l'olanda perché vedere l'inghilterra in finale e spero che perda spero che perda c'è non ho attrattiva nel parlare degli europei ho visto proprio tanta gente che non ha neanche parlato della inghilterra inghilterra olanda quindi aspettiamo questa finale di domenica ovviamente penso che quasi tutto il popolo mondiale tv spagna perché gli inglesi non possono vederli nessuno quindi a parte quello non è che può che c'è tanto da parlare sì c'è stata c'è stato tiago motta che è arrivato il primo allenamento gli ho visti correre gli ho visti correre di più questi qua e bisogna dire la verità che gli ho visti impegnarsi e quindi è già una buona cosa ho visto addirittura che al terzo tocco qualcuno se neanche sentite il terzo tocco con tiago motta non esiste quindi io vi ripeto vedo una juventus diversa quest'anno vedo un'altra mentalità e io vedo veramente che la juventus ha cambiato registro ha cambiato letteralmente ha voluto chiudere col passato sia con giocatori che con allenatore con dirigenza e con dirigenza del passato con gente che è stata non ci penso che non ci sarà più quindi ripeto per me questa qui una juventus futuristica chiamiamola così una juventus futuristica e va bene così va bene così dai ragazzi bisogna cambiare bisogna cambiare ragazzi e più che altro notiziole 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 del giorno quelle che dicono tutti non è che chiesa adesso c'è newcastle newcastle su chiesa copp mayers priorità per la juventus giuntali farà qualcosa in difesa ovviamente qualcosa in difesa devi fare devi puntellarla perché ci sono buoni ma ce ne sono buoni giocatori però devi secondo me ultimarla la difesa ti servono un paio un terzino destro un centrale per dar fiato a ragazzi ci sono cinque competizioni è quest'anno 5 c'è quattro sicure la quinta vedremo se si farà o no perché li vedo che sono tutti e tutte quante col pugno pugno di ferro lì è con questa con questa moco questo mondiale per club non lo so cosa succederà comunque vedremo bevo ragazzi poi c'è questo questa l'offerta per todibò todibò vedremo questa juventus cosa farà con todibò arthur la juventus è davanti ad un bivio cosa può succedere cosa succederà che arthur sicuramente la juve non ormai arthur con la juve ha chiuso dai ragazzi può venire anche l'allenatore più scarso di questa terra se ti tieni arthur sei un mediocre artur è un mediocre o mediocre altro ve lo ricordate questo ragazzi oddio di o dio di o dio di o dio di o di o dio di o di o odio di o di o di o di o di o quanto quando quando lo vedo questo qui per me questo qui è stato li del mio idolo il mio idolo quando lo vedo ragazzi ci sono lacrime lacrime, lacrime 12 luglio 1988 la UEFA premia la Juve prima squadra di sempre ad aver vinto i tre trofei ragazzi ragazzi eventualmente perché eventualmente non impiangeremo Federico Chiesa Federico Macca obiettivo della Juventus Next Gen diamo anche un buon buona fortuna al nostro Montero che è stato promosso dalla primavera alla Next Gen vedremo cosa farà il nostro Monterone altre cose che Moise Ken non ha detto tanto ha detto solo che è stata una stagione piena di infortuni Bonucci a retrosena sono giuntoli mi disse questo poi chiamò Manna ancora Bonucci non parlate più del passato non parlate più del passato Juventus contro Elcantiagomotta chiacchierata di mezz'ora i dettagli ovviamente io guardo il mio sito preferito perché il bianconero trattativa di scambio per Federico Chiesa il nuovo acquisto per il settore giovanile Cancelo alla Juventus si sono stati contatti e questa qui è una notizia una notizia rivoreste Cancelo la Juventus qui si parlano di qui si parla sempre di di le versaglie si rinforzano ricordiamoci cosa è successo alle Hada no c'è Inzaghi lì che già comincia a rompere le vale che le Hada si rinforzano gli altri no Inzaghi ti è andata bene ti è andata bene questi anni che avete potuto fare quel cazzo che avete voluto comunque questa notizia importante questo Cancelo alla Juventus ci sono un paio di 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 notiziole su Cancelo che al Manchester City l'hanno fatto fuori al Barcellona lo fanno fuori e la Juventus vuole riprenderlo io lo sapete che i cavalli di battaglia i cavalli di ritorno di ritorno non ho un feeling non ho un feeling io abbiamo visto cosa è successo con i cavalli di ritorno quindi io non vorrei un ritorno di nessuno gli allenatori sono un'altra roba l'allenatore è un'altra cosa ma questo qui quanti anni sono passati o dall'anno di Sarri cioè questo qui ha giocato l'ultimo anno di Allegri poi Sarri Pirlo Allegri Allegri sono passati cinque anni ragazzi cinque anni e te lo vuoi riprendere magari si rompe anche perché questo qui dopo Manchester dopo Barcellona e dopo non so con chi cazzo ha giocato questo qui sarà anche usurato e te lo vuoi riprendere io non riprenderei nessuno più non riprenderei più nessuno avete visto i Borrucci ripresi i Buffon ripresi i Coso lì Pogba neanche parlarne quindi io sono contro i i ritorni ma contro totalmente ai ritorni mi dispiace ma la Juventus deve ripeto guardare il futuro la Juventus nuova io punterei tutto su Coppemeyers l'unico giocatore che io prenderei in Italia è Coppemeyers il resto il resto prenderei tutto all'estero perché io non voglio dare più nessun soldo a nessuna società italiana dopo le smardate che ci hanno tirato sempre dopo che li abbiamo riempiti di soldi ci hanno sempre smardato quindi io prenderei Coppemeyers cercherei di dargli più contropartite possibile gli sacrificherò qualche giovane va bene però Coppemeyers e basta il resto vado a prendermi prendi quel Merino quello che gioca con la Spagna lì è con Leocoso lì come si chiama il Real adesso non mi ricordo lì la squadra sua quello è forte anche giunto lì sei andato a vederlo un paio di volte prendi quello prendi quello quelli sono giocatori Coppemeyers Merino quelli lì non andare a impetolarti con squadre italiane cercare scambi non ne vale la pena non ne vale la pena non ne vale la pena più prendere qui in Italia non vale la pena altro non c'è da dire ragazzi io vi auguro un continuo una buona estate un buon caldo un buon caldo ragazzi è una roba una roba allucinante veramente non mi viene neanche voglia di fare i video veramente live neanche non ne parliamo neanche non ne parliamo perché veramente mi vi manca il fiato io ringrazio sempre chi mi segue e mi raccomando iscrivetevi al canale sempre sapete che ci sono premi abbonatevi abbonatevi ovviamente ogni tot verrà premiato uno avete visto ieri no io adesso vedrò di spedirtela il prima possibile devo trovare il tempo di andare in posta perché sono tutto il giorno che lavoro quindi devo trovare il tempo se no manderò mia mamma vediamo e niente ragazzi ci vediamo alla prossima altre notizie non ci sono perché non ho neanche voglia di riempirvi di balle preso quello preso quell'altro preso st'altro andiamo più sull'ipotetico più sul il futuristico quello che potrebbe essere vedremo cosa succederà in futuro alla Juventus chi prenderà chi non prenderà io credo che l'aggiuntoli prenderà qualcuno di cui non si parla di cui non si parla vedremo vedremo cosa succederà anche e soprattutto sono curioso di vedere come finirà questa pantomima lì McKennie chiesa vedremo come va a finire via i rompipalle via i rompipalle ragazzi un bacione a tutti i belli e brutti ci vediamo alla prossima e fate i bravi sempre fate i bravi mi raccomando